Stati Uniti, il presidente Biden sotto pressione per la decisione di difendere il ritiro ai minimi nei sondaggi e Trump lo attacca. Secondo i media, gli avvertimenti dell'intelligence sull'Afghanistan sono stati ignorati. Matteo Alviti. Stretto all'angolo dalle critiche per un ritiro che, agli occhi del mondo, si è trasformato in disfatta, Joe Biden parlerà di nuovo stasera di Covid, non di Afghanistan, che per il presidente degli Stati Uniti è ormai un capitolo da chiudere più in fretta possibile. In una settimana il suo gradimento crollato di sette punti al livello più basso da quando è stato eletto. Il ritiro sotto la lente delle commissioni esteri, difesa e intelligence. È in gioco la reputazione di Washington, macchiata da chiari errori di valutazione. La critica del presidente della commissione esteri Bob Menendez, democratico come Biden. L'intelligence aveva avvertito, a luglio, della fragilità dell'esercito afgano, della sua probabile incapacità di resistere a un'offensiva talebana, rivela il New York Times. Un cambio di rotta rispetto ad altri rapporti, l'ultimo di aprile, secondo cui ci sarebbero voluti almeno 18 mesi per la caduta di Kabul. Per Donald Trump mai un ritiro era stato gestito in maniera peggiore. L'attacco senza riserve dell'ex presidente, che quando era in carica ha deciso di lasciare l'Afghanistan e ha concluso le trattative con i talebani. È la più grande vergogna della storia del nostro paese. Trump neanche per George Bush, ex presidente repubblicano come lui. Andare in Afghanistan e Iraq dopo l'11 settembre è stata la decisione peggiore. L'emergenza Afghanistan fa riaprire il Parlamento britannico.